È nelle sale del film Star Trek Into Darkness per la regia di J.J. Abrams. Il nostro inviato a Londra, Lorenzo Armando, ha intervistato tutto il cast. La prima volta mi sento che tutti abbiamo una connessione più profonda e abbiamo cresciuto e ho avuto altre esperienze e J.J. ha ovviamente evolvuto nella sua relazione con storia e quindi mi sento che tutti siamo tornati a cercare di fare il miglior lavoro che potremmo. Pensate che il vostro mondo sia al sicuro. È solo un'illusione. Godetevi questi ultimi momenti di pace. The first Star Trek was very much an origin story and so it was an easier stand alone movie to do. But because this one was more literally a sequel, our approach was to not treat it like a sequel. Treat it like its own thing. And if you happen to have seen an earlier version, great. But you never have to see Star Trek before to see Star Trek Into Darkness. He is so able, capable of multitasking at such a high level for a film that is so big with such a great amount of responsibility. And to handle such a big effects and the action sequence on top of handling a really, I think, complex storyline is a hallmark of what he does best. È soltanto l'inizio. Chiedo il permesso di dargli la caccia. Non è la vendetta lo scopo della flotta. Dovrebbe esserlo, signore. J, ma non gli darai sul serio la caccia, vero? Non ho idea di cosa dovrei fare. So solo quello che posso fare. Non ci passeremo. Ci passiamo, ci passiamo. Ci siamo passati. Non credo sia la definizione esatta. C'era molto felice di essere un parte di questo. Mi piaceva come tutto si è stato fatto. Mi piaceva come lo che il film ha fatto, come lo che ha editato, come lo che gli avvano. Come lo che gli avvano, come lo che gli avvano. È stato un po' meraviglioso. Perché, credo, siamo tutti amici, ma non siamo nemmeno lavoriamo insieme per se. Um, so to be able to now sit down and and see Benedict and Alice and Simon and Chris and I'm going, oh my god, you guys kicked ass. It is amazing. The challenge was always the balance between a movie that was huge action-adventure and also about character and heart and emotion. Um, and the other balance was it has to honor Star Trek. It has to honor what's come before because the fans of Star Trek are vocal. But this movie was not just made for fans of Star Trek. It was made for people who just love going to the movies. So the key was to treat this film as its own thing. Uh, a standalone movie where we're not making a sequel, we're making its own movie. There are certain things that, uh, insurance restrictions prevent us from actually being able to do in terms of wire work. And, but yeah, I mean, uh, we did all of our fight sequences and stuff and, uh, all of the running. And we had a great stunt team, an amazing group of, of guys that were there to support us and, um, and, and, and help us and, uh, and train us. Um, but that's part of the fun of making a movie like this is that you get to actually. He fills my heart with very special things with angel songs with wild imaginings. He fills my soul with so much love with so much love with so much love Grazie a tutti